Entro la fine del mese di maggio il Comitato di Sorveglianza del Ministero approverà la relazione del Commissario e inizierà la preparazione del bando che presumibilmente auspichiamo possa essere pubblicato entro l'estate. La relazione del Commissario straordinario Leonardo Romagnoli è stata depositata sul tavolo del Comitato di Sorveglianza. Adesso è tesa solamente la sua approvazione e dopodiché con la pubblicazione del bando per la vendita i potenziali acquirenti interessati potranno farsi avanti. Siamo perfettamente consapevoli che la partita dal punto di vista occupazionale è ancora da giocare. Vendita al miglior acquirente e soprattutto mantenimento dei livelli occupazionali saranno alla base del braccio di ferro tra le organizzazioni sindacali e il futuro acquirente della Cantarelli ovviamente da rileggere alla luce del piano aziendale che sarà presentato. È un'azienda che deve ancora continuare ad occupare il maggior numero di persone possibile. Certo siamo preoccupati perché, e lo abbiamo detto anche in precedenza, più il tempo passa più i margini diventano sottili. È importante che il commissario abbia deciso di procedere alla vendita con l'azienda attiva. Certo questo non dà assolutamente nessuna garanzia su quello che potrà essere il futuro. Le garanzie e il futuro lo discuteremo con chi sarà il soggetto prescelto alla conclusione della procedura competitiva. Ci sarebbero comunque già sette soggetti che hanno manifestato interesse per l'acquisto tra cui anche Emiliano Rinaldi che non ha mai nascosto l'interesse per l'azienda. Intanto mercoledì 18 maggio ci sarà l'assemblea dei lavoratori nello stabilimento di Trontola con le organizzazioni sindacali. Ad oggi sono in azienda ad orario ridotto circa 150 lavoratori mentre per altri 120 c'è la cassa integrazione. È una situazione difficile, complicata, i lavoratori in cassa integrazione sono molti, sono circa 120. Credo da ieri i lavoratori attivi che sono circa 140 hanno ricominciato a orario pieno finché fino alla scorsa settimana erano a orario ridotto. Il punto è che dobbiamo fare presto. Ma le mestranze e cantarelli sono comunque già al lavoro per presentare a Pitti Uomo la propria collezione. Anche questa è stata una scelta importante da parte dell'Avvocato Romagnoli non ci illudiamo che possa essere decisiva però è indubbio che un'azienda viva è un'azienda che deve essere presente a un evento così importante per il mondo della moda.